Si chiama Simon Cuney, è di Preston, nell'Inghilterra, e pensate che costui avrebbe aggredito una donna a morsi e poi sarebbe scappato via in compagnia dell'amata figlia di tre anni di età. L'uomo avrebbe colpito a pugni, infatti una donna poi è salita a bordo dell'automobile con la fioretta di tre anni, adesso però l'uomo sarebbe ricercato da parte della polizia. In particolare la polizia starebbe cercando una bimba di tre anni scomparsa dopo che il padre sarebbe fuggito dalla scena di un'aggressione, la bambina si troverebbe nel sedere posteriore ovviamente dell'automobile di proprietà dell'uomo. La bambina si chiama Autun, pensate che ha soltanto tre anni di età ed è letteralmente scomparsa dopo aver visto la scena violenta. La polizia sta cercando Simo, la figlia, e l'uomo non passa inosservato perché ha la testa rasata e ha una barba, la bambina ha i capelli biondi, molto lunghi, fino alle spalle, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utente di Youtube, iscrivetevi, seguitevi, commentate, un caro saluto a voi e al prossimo.